ragazzi e ragazze, signore e signora, amici, amiche, fratelli, sorelle, mo venu caddem calamari, calamaretti all'addò crudo e mangiato, questo è il protagonista? sempre Leonardo Di Sante i gamberetti che poi ci sono anche i gamberettini piccolini crudo e mangiato a rete male, male, amico e mangiato a rete quanta roba mi ha portato Leonardo, quanta roba mi ha portato i fogli per le scuole, basta manchè, manchè, calamaretti di nuovo a stare i crudo e mangiato a rete manchè, 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 mamma mia, manchè, manchè vabbè ovviamente il grandissimo Leonardo Di Sante si merita un applauso alla dog alla dog bene acqua buono ci sono pure le camerette madre ma ne sta sempre voglio sentire male devo mangiare tutto ma ne è difficile non sento male è proprio difficile il grande maestro non ha preso il virus se ti sentire male se ne mangia la